La gioia vera, voglio stare insieme a sé, non lasciarti mai... Santa Messa questa mattina celebrata dai parroci della Forania di Battipaglia, dinanzi il cimitero. Al termine della celebrazione caoristica la sindaca di Battipaglia ha deposto le corone, dinanzi la lapide che commemora i primi cittadini di Battipaglia defunti e davanti l'ossario comunale. Quando tu entri nel cimiterio tu rendi omaggio a tutti i defunti che sono qui, che sono tanti. Il cimiterio è datato ed è importante ricordare anche i sindaci, nel bene o nel male, ognuno di loro ha comunque dato un contributo affinché questa comunità crescesse e quindi noi dobbiamo ricordarli. Quest'anno è venuto meno un altro sindaco, Antonio Concilio, l'anno prima l'avvocato Giove, sono tanti, almeno quando ci sono stata io, Mafia e altri, l'avvocato, insomma il dottore Concilio, sono tantissimi, non si sto a ricordare tutti quelli che mi ricordo io, però è fondamentale perché ognuno di loro ha contribuito a rendere grande e anche a costituire, a costruire questo cimitero che passando per la strada lo vedo che è diventato enorme, 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 enorme. Questo è un dovere che noi come cristiani e come cittadini abbiamo nei riguardi di coloro che ci hanno preceduto nel Regno dei Cieli, insomma che si sono dati concessione, ci hanno lasciato per raggiungere l'eternità. Ricordarli è anche un senso di riconoscimento per il bene che hanno fatto ed è uno stimolo per noi che commemoriamo i nostri defunti ad apprezzare la vita e a vivere sempre la nostra vita con valore e dedizioni verso il prossimo.